Una foca che gioca con una palla, un polpo che tenta di uscire con i suoi tentacoli, le barchette colorate e il sole. Sembra di essere in Giappone ma siamo nel pieno centro di Bari. Questi sono solo alcuni dei 70 disegni che abbelliranno nelle prossime settimane i tombini di corso sonnino del quartiere Madonella interpretando temi che rispecchiano la bellezza e l'identità della città. Un'iniziativa dell'associazione Madonella Republic che punta a colorare i cerchi grigi disseminati nelle città. L'attività è stata supportata anche da Acquedotto Pugliese. Continuano in questo modo le iniziative dei commercianti e dei residenti volte ad animare il quartiere barese e promuoverlo anche dal punto di vista turistico. Con Acqua Artist inoltre parte il progetto di decoro urbano che prende vita nel cuore del rione a sud del centro. Il progetto mira a trasformare il quartiere Madonella in un vero e proprio museo a cielo aperto rendendo l'area un polo di attrazione culturale e turistica. Il progetto non solo abbellirà il quartiere ma offrirà anche una divertente caccia al tesoro per residenti e turisti invitandoli a esplorare Madonella attraverso un itinerario artistico che mette in luce questi spazi urbani spesso trascurati. L'obiettivo è quello di far sì che i turisti che ci sono all'interno del nostro quartiere non vadano via ma rimangano e con un selfie tagghino il quartiere.